Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi vi mostro come possiamo realizzare questo bellissimo kit composto da borsa, cappello e scaldacollo. Nello specifico oggi realizziamo insieme la collana scaldacollo. I materiali sono stati offerti dalla merceria Zeus, un sito veramente ricco di materiali sia per realizzare le nostre borse ma anche per realizzare il nostro outfit. Quindi in questo sito trovate veramente tanta tanta vera varietà di filati. Nel box informazioni trovate il link per acquistare sia il velluto ma anche i materiali che ho usato per realizzare la borsa. Potete andare anche a guardare veramente i tanti altri materiali che hanno a disposizione e quindi scegliere quello che preferite. Hanno un'ottima, una valida opzione di spedizione da 29,90 e poi la spedizione è gratuita. Quindi ve li consiglio pienamente. Nel box informazioni trovate i link per realizzare sia la collana scaldacollo che la borsa. Detto questo vi ricordo che se vi fa piacere potete seguirvi sul mio nuovo blog, nuovo canale youtube dove abbiamo caricato appena un solo video dove praticamente andiamo a mostrare quello che facciamo nella vita quotidiana. Quindi se vi fa piacere seguirmi anche su quel canale iscrivetevi e attivate la campanella. Detto questo passiamo al tutorial. Allora per il nostro tutorial andiamo sempre ad usare il velluto premium come abbiamo fatto per la borsa. Allora io vado ad usare l'uncinetto numero 5 ed inizio in una maniera molto molto semplice. Allora vado a fare il tappietto all'uncinetto e lavoro 1, 2 e 3 catenelle. Poi due volte il filo sull'uncinetto e dentro nella prima catenella che ho realizzato. Entro, carico il filo, filo sull'uncinetto e scarico due fili insieme. Tre fili guardate sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto insieme così. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 catenelle di nuovo, due volte filo sull'uncinetto ed entriamo, guardate bene, 1, 2 e 3, quindi sempre sulla prima catenella che iniziamo a lavorare. Carichiamo il filo, filo sull'uncetto, scarichiamo due fili, abbiamo tre fili sull'uncinetto, 1, 2 e 3 e chiudiamo tutto insieme. E di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, due volte filo sull'uncinetto e di nuovo guardate, 1, 2 e 3 e nella terza entriamo, carichiamo il filo, filo sull'uncinetto, scarichiamo due fili, abbiamo tre fili sull'uncinetto, carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Quindi vedete l'effetto del velluto, essendo ovviamente un effetto tipo pelliccia, ci dà questo spessore che per il nostro scaldacollo è molto bello, ovviamente anche molto molto morbido. Quindi adesso noi dobbiamo andare a proseguire sempre alla stessa maniera, quindi di nuovo 1, 2 e 3, due volte filo sull'uncinetto, altrimenti il lavoro tira troppo. Entriamo all'interno, carichiamo il nostro filo, scarichiamo due fili, 1, 2, 3, 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Allora sicuramente mi farete la domanda se si può fare anche con un altro filato. Allora se il filato è troppo sottile, vi dico già che il risultato non è lo stesso. Quindi o caricate più fili, cioè andate a lavorare, tipo se avete una lana che si lavora con l'uncinetto 3, mettete due fili, quindi lavorate in doppio filo. Per avere questo effetto io veramente vi consiglio il velluto o la lana grossa, la lana che si lavora con il 5 e il 6, quella anche potrebbe andare bene per questo effetto di questa collana scaldacollo. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quanti gruppi da 3 catenelle ho realizzato. Ho proseguito come potete vedere per un bel po' realizzando circa 220 gruppi da 3 catenelle. Vedete, ho lasciato del gomitolo, quindi consumo tutto il gomitolo da 100 grammi e lascio circa, vedete, un paio di metri di filato più o meno, insomma, ok? Ora fatto questo, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere l'altro capo, quindi dove abbiamo ovviamente iniziato, vedete, in questa maniera qui e andiamo ad unirli, quindi i due lati, vedete, quindi l'inizio è l'ultimo punto. Io faccio così, vedete, entro all'interno e vado a chiudere in questa maniera, qui, ok? E creo una, diciamo, una catenella e quindi li ho chiusi, adesso tiro il restante filo che mi servirà ovviamente per unire l'altra lavorazione. Allora ragazze, mi sono messa così per farvi vedere bene, allora questo è il punto dove abbiamo, vedete, chiuso, quindi ho chiuso così, adesso facciamo in questa maniera per prendere ovviamente l'altro capo. È molto lunga, ovviamente la lavorazione, circa 4-5 metri, ed eccole qui. Adesso noi ne abbiamo frontalmente, vedete, uguali. Una di queste la giriamo così. Qui abbiamo sempre il punto, ricordatevi, dove abbiamo chiuso, quindi rimaniamo sempre il filo qui. E andiamo a prendere ovviamente l'altra parte. La prendiamo così ed ecco qui, vedete, che sono tutte e due frontalmente così. Ora una di queste le giro in questa maniera e faccio così. Ok? Ecco qua, guardate. Adesso la stessa cosa. Vado a prendere l'altra parte. Allora ricordiamoci sempre di tenere il filo, questo qua, da questo lato così. Vado a prendere l'altra parte, ovviamente. Eccola qui, così. E rigiro sempre una parte. Adesso siamo così, guardate bene, vedete, sono frontalmente così. Una di queste la giro, quindi una mano delle due le giro così, in questa maniera qui. Ed ecco. Allora, questa già è una forma, vedete, abbastanza larga. Noi possiamo ancora girare e farla più stretta, però non so fino a che punto, insomma, può essere così stretta, può essere comoda. Ecco qui, vedete, che io ho chiuso, tipo collana, scaldacollo, la mia lavorazione. Una volta, vedete, che io ho qua sempre il filo, vedete, di congiunzione, devo andare a fare di giri tutto intorno. Quindi vedete il mio scaldacollo o collana, come la volete chiamare, l'ho raggruppata, spero che si è visto bene. Adesso, da questo punto in poi, vedete, non faccio altro che fare in questa maniera, qui, qui, il filo, semplicemente devo andare a creare una specie di striscia, quindi di congiunzione, in questa maniera. Quindi vedete, non faccio altro che andare a chiudere con il restante cordino per fare proprio una chiusura. Quindi chiudiamo più volte, possiamo farlo anche più spesso, se ci piace, insomma, quindi una lavorazione un po' più stretta e più spessa, girando più volte. Io vado verso sinistra, anche se non è importante, poi andate dove vedete come vi piace di più. E vado a proseguire. Quindi andate a proseguire e fate quanti giri, quanto, diciamo, volete, spessa questa lavorazione qui al centro. Allora ragazze, io mi fermo qui, qui ho il filo praticamente che avevo dell'inizio e taglio, vedete, il filo in più che avevo lasciato. Adesso vado a fare un nodino, vedete, faccio un semplice nodino così, bello stretto, e questi fili vado a nasconderli all'interno della lavorazione. E' importante il nodino così siete sicuri che non vi sfuga. Vedete, entro, esco più volte all'interno così e chiudo. Ok, facciamo ovviamente la stessa cosa anche con quest'altro, in questa maniera qui. Quindi entriamo all'interno e andiamo a nascondere, tirate bene bene nascondite. Ed ecco qui, che la nostra collana scalda-colle è pronto. Ovviamente se avete dei fili che fuoriescono, li tagliamo, questi facevano parte del gomito, e andiamo a tagliare e sistemiamo la nostra collana calda. Eccola qua, ok? Adesso qui, se vi piace, potete mettere anche delle perline, non lo so, una spillina, poi dipende da gusti. Io per ora non so se le andrò ad abbellire, nel caso ve lo faccio vedere poi nell'anteprima, ok? Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, è semplicissimo da fare. Mi fa piacere vedere le vostre creazioni nel mio gruppo Facebook, quindi iscrivetevi, le amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto al prossimo tutorial.